buongiorno oggi un video per raccontare un po di cose visto che poi ecco non tutti amano leggere io sono uno abbastanza logorroico nel senso che scrivo molto ma so bene che la gente non ama scrivere quindi provo con un breve video a raccontare quello che insomma sono alcune riflessioni su ciò che succede intorno a me e sentivo stamattina che il premier olandese l'esempio root si è dimesso a due mesi dalle elezioni che oggi magari rischi anche di perdere perché 20.000 famiglie olandesi erano state costrette a indebitarsi per restituire gli assegni che lo stato olandese aveva erogato per i figli salvo poi scoprire che queste famiglie avevano ragione quindi lo stato olandese ha restituito i soldi con gli interessi ecco una cosa che mi fa ricordare il ministro svedese che si era dimesso perché non pagava il canone rai ecco che in italia davvero non succederà mai perché quando succede al massimo si fa una commissione e dopo decine e decine di anni alla fine non c'è mai nessun colpevole ecco e quindi va dato merito a rutte peccato che si trovi in olanda che è uno stato che fa dumping fiscale che sottrae gettito agli stati membri perché si mette l'accordo con le grandi multinazionali a partire da priceland che detiene le quote di booking ma tante altre aziende fatturano ad amsterdam così come in irlanda così come in lossemburgo così come in belgio così come a cipro a malta ecco pare che quando pensiamo ai paradisi fiscali sogniamo le palme il mare ma in realtà ecco sono all'interno dell'europa un po come uno stato a parte un po come il san marino dell'italia il vaticano e pensare che ad esempio il lussemburgo e alla popolazione più o meno di quella che ha la basilicata nella nostra regione e fa un come dire un pil di 70 miliardi considerato che 110 volte più piccola dell'italia se moltiplicassimo ecco questi 70 miliardi di dollari perché così riportano poi le statistiche e volerebbe dire che ha un pil di circa 8 mila miliardi di dollari che quattro volte abbondante c'è quattro volte e mezzo quasi quello dell'italia davvero davvero incredibile come si possa pensare di vivere in una unione europea che non è uno stato federale non ha una costituzione non ha un presidente degli stati uniti d'europa non ha una unione fiscale ma è ecco a chi può fregare meglio l'altro la germania ovviamente dall'alto dei sei 4 mila miliardi di fatturato ecco siano in fischia e quindi attrazione carolingia può fare quello che vuole ovviamente succede anche che tutti gli asset importanti li abbiamo depauperati ecco l'assalto la dirigenza italia è sempre in atto l'operazione di fca con psa con peugeot e opel dove sono presenti sia lo stato francese che quello tedesco che ha dato vita stellantis ovviamente fca dopo aver percepito dal 75 ad oggi si quantifica circa 250 miliardi di euro ecco se ne va a produrre il segmento b che quello dell'automotive quello più diffuso lo fa produrre in polonia su piattaforma francese e ovviamente i veco che ecco è un'azienda italiana che produce track quindi camion tir ma anche autobus per il trasporto pubblico locale in puglia ad esempio ne abbiamo presi circa 400 di crossway negli altri negli anni scorsi come come consorzio di trasporto aziende pugliesi ma davvero davvero un assalto la dirigenza ecco quelle società che sono diventate quelle che sono grazie a le contribuzioni pubbliche che se ne vanno a far fortuna altrove si quotano al nasdaq di new york ovviamente lasceranno le macerie a noi perché poi fc auto c'ha circa 90 mila dipendenti che con l'indotto di altre decine di migliaia probabilmente dovrà lasciarsi sul gloppone degli ammortizzatori sociali che l'italia dovrà pagare con dalla fiscalità generale e naturalmente fiat fca quindi è anche abbastanza intelligente richiede altri 6 miliardi di euro con garanzia italiana mentre fa affari fuori e va a pagare le tasse in olanda manco manco a dirlo guardate davvero io non comprendo come si possa stare in una unione europea di tal fattura e un'unione europea che non prevede per i loro trattati l'unione fiscale che non ha una costituzione che pone al primo posto l'economia e lo abbiamo visto con lo sure col mess col fiscal compact con i trattati di maastricht di lisbona ma davvero davvero è che è antitetica quella che invece la nostra costituzione italiana che pone al primo posto il lavoro ecco una repubblica fondata sul lavoro dove ovviamente hanno esautorato i governi e naturalmente la sovranità popolare e loro e loro pongono al primo posto l'economia poi vengono gli stati membri poi vengono le costituzioni e poi il lavoro anzi loro con la curva di philips dicono proprio che il lavoro deve essere ad una disoccupazione intorno al 10 per cento con un'inflazione da tenere bassa quindi oggi che siamo in deflazione verosimilmente non appena saranno sbloccati i licenziamenti noi arriveremo al 12 al 13 al 14 per cento di disoccupazione peccato che poi altri stati come la germania stiano intorno al 3 e quindi ancora una volta i due pesi le due misure ma io spero e non mi interessa diciamo della crisi di governo perché anche per la politica valgono i principi matematici e i numeri governano il mondo diceva qualcuno ma governano anche la politica quindi cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambierà quindi che sia o sarà un conteter raffazzonato con quelli che una volta erano scillipotiani erano erano quelli dei mercati delle lacche oggi la truffa anche semantica quindi la narrazione cambia e loro sono sono persone ecco responsabili sono costruttori ma ecco la costituzione è uguale le camere sono uguali è cambiata solo la narrazione del mainstream che ovviamente li fa passare come salvatori della patria ma siccome per me non c'è differenza tra destra e sinistra veramente sono poco interessato e appassionato tanto noi non decidiamo nulla decidono altrove con la questione del cashback con la tirata di orecchie a gueltieri è emblematica l'introduzione dal primo di gennaio di nuove regole stringenti per le banche che manderanno in sofferenza aziende e famiglie e l'ennesimo esempio il depauperamento del sistema sanitario dovuto alla direttiva 161 i blocchi assunzionali fatti all'epoca dal governo tremonti e poi aggravati dal pareggio di bilancio con monti senza il 3 nel 2012 che hanno costretto ovviamente a privatizzare la sanità a non rimpiazzare le quescenze a ovviamente smantellare tutto quel territorio e a concentrare poche strutture private una sanità d'eccellenza che poi va a dare ad alimentare quella mobilità passiva regionale che per la puglia ad esempio vale 330 milioni adesso si sarà contenuta per le limitazioni agli spostamenti perché la gente non si cura ecco stiamo ritardando diagnosi non si fanno più gli screening alla cervice non si fanno più gli screening mammografici non si fanno più gli screening al collo al retto veramente non sono mai partiti in puglia ma ecco è così un po ovunque questi fra 45 anni vorrà vorranno dire diagnosi ritardate vorranno dire interventi invasivi per questo più costosi e vorrà dire tante morti che oggi non possiamo contare così tutto per le patologie tempo dipendenti per i big killer per cosiddetti per per le cronicità che ovviamente non stanno facendo quel follow up necessario ecco io francamente mi mi rivedo un film già visto ogni volta che si parla di crisi ma davvero sono sono ridicoli quando quando pensano di comandare e mi dispiace per la gente che non si rende conto che il ciuccio che vola ecco io ci credevo da bambino credevo anche a un centrodestra un centrosinistra ma saranno una dozzina di anni che non è più così ecco ho creduto e solo militato nel movimento cinque stelle per otto anni perché era antisistema poi ecco le sirene omeriche li hanno attratti la stoffa degli scranni e così molto accattivante il potere logora che non ce l'ha diceva qualcun altro ed è chiaro che sono diventati sistema e non esiste più da ormai tre anni peraltro diciamo hanno fatto di tutto per prendersi il podio come campioni di ipocrisia macchiandosi anche di omicidio politico reiterato per far posto al clan spazzando via persone che avevano diciamo catturato la stima la simpatia delle persone per l'impegno profuso come nel mio caso ma davvero per me è storia passata ci tenevo a ecco fare questo breve video per che poi tanto breve non lo è mai perché poi quando comincio a parlare ecco le cose sono inanellate ma spero di farne al più presto un altro intanto vi auguro una buona giornata ecco così giusto per drammatizzare grazie a tutti